Una scaccia cani, una replica di una pistola beretta, diversi cellulari e un disturbatore di frequenze per neutralizzare allarmi e chiamate di soccorso. Sono solo alcuni degli oggetti ritrovati a Fano in una casa dove è stato sorpreso un trentenne di Foggia. Sull'uomo pende un provvedimento di cattura per chi è evaso da più di un mese dagli arresti domiciliari che stava scontando a Vieste. Il trentenne è stato avvistato dai carabinieri in zona Baia Metauro dove stava transitando a forte velocità con una moto, una onda Transalp di colore grigio che si scoprirà poi essere stata rubata nel marzo 2013 a Bisceglie. Scattato l'inseguimento, il centauro di risposta ha cominciato ad impennare il mezzo per non rendere visibile la targa, poi si è infilato nei vialetti condominali di alcune case estive. Così le forze dell'ordine hanno continuato a cercarlo a piedi fino a quando hanno trovato la moto con il motore ancora caldo e nascosta in mezzo ad un cespuglio. Dopodiché hanno notato una luce trafilare dalla base della porta di una delle case. Ad aprire è stato il fuggitivo che però ha negato di essere proprietario del motociclo ma una volta esibiti i documenti militari hanno scoperto le sue vere generalità. Perquisita l'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto anche il classico kit del rapinatore, nascosto dietro un intercarpedine del bagno. Il foggiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere e in flagranza di reato per ricettazione. Falsa attestazione delle proprie generalità e detenzione di arma clandestina. Il trentenne giunto a Fano una decina di giorni fa probabilmente stava progettando rapine a mano armata.